Ciao tesorine, oggi nuovi acquisti da mostrarvi, sono davvero contenta perché ci sono dei pezzi che bramavo veramente da tempo e sono contenta di averli trovati e anche a dei prezzi wow, prezzi bomba, quindi iniziamo subito sono stata da Frusciò e volevo comprarmi un bel bikini da andare al mare o da utilizzare soprattutto per il Messico però non ho trovato quella cosa particolare che stavo cercando ma ho subito rimediato e ho preso queste meravigliose ciabattine più che altro da spiaggia, da mare, piscina, poi però quando uno va in vacanza io questo genere di ciabatte le uso anche quando vado a fare due passi, a fare la spesa perché sono comodissime, ve ne mostro una le ho pagate a prezzo pieno purtroppo perché queste non erano in saldo, non si sa perché 15 euro però ho detto ma si va benissimo, lo stesso sono in plastica abbastanza rigida ma allo stesso tempo vedete che secondo me non dà fastidio alla pianta del piede perché io ho sempre problemi ai piedi rosse perché purtroppo io le volevo bianche ma il mio numero nada ma sono molto carine lo stesso anche perché ho tanti costumi sul rosso comunque che si abbinano a loro quindi yeah e sono molto carine anche perché adesso non so si vede rosso su rosso però hanno questa penso camellia bellissima veramente un 36 e mi va sono stata dai cinesi e ho trovato una cosa che veramente cercavo da tanto l'avevo anche trovata da Klairs, da Accessorize però costava sugli 8 euro, cifre secondo me esorbitanti per l'oggetto in sé sto parlando di questa meravigliosa fascettina con questi fiorellini sul rosa, lilla veramente carinissimi poi con lo strass al centro e meravigliosa 1,90 euro forse ho sbagliato perché dovevo prendere anche altri fiori, altre colorazioni però visto che è una cosa che non penso utilizzerò tutti i giorni ma giusto così magari si in vacanza ti osi a mettere queste cose, a fare video ecco, fare qualche outfit particolare, qualche foto particolare però sinceramente non so se mi oserei ad andare in giro con questa qua in città perché mi prenderebbero per matto, ok? che io non ascolto tanto le opinioni altrui perché ognuno deve farsi i fatti propri però qua in giro no, però meravigliosa, meravigliosa e sempre in questo negozio ho trovato una borsa esatto, siamo a quota 5 tra tutte le borse che ho preso in questi saldi lo so ma voi lo sapete, io ho proprio la malattia delle borse quindi capitemi, comprendete questo mio problemino ma sono stata bravissima perché ho speso 9,90 euro e mi sono portata a casa questa borsa bellissima, simile Chanel e appunto sono contenta di averla presa perché l'ho vista in tutte le salse, di tutti i colori, di tutte le fantasie ma questo rosa qua, che sì, come lo vedete voi in camera è fantastico, è molto bonton, è molto bambolina, è molto me e quindi non potevo lasciarlo lì è un rosa davvero carino, antico e poi è anche bella grande perché non so se notate il mio visino ma è grande, grande quindi è comoda anche da utilizzare tutti i giorni secondo me e appunto l'ho pagata 9,99 io ho detto 9,90 vabbè, 10 euro praticamente con la solita catena che può essere utilizzata lunga, corta si apre in questo modo qua e dentro anche la cerniera con taschini, cerniera veramente è come se fosse una borsa normale e sono rimasta contentissima a quel prezzo ho detto no, la voglio quel colore non lo troverò mai più quindi mio poi vabbè, ho preso un paio di pantaloni semplicissimi con queste perline e strass con le tasche molto carino, molto semplice al fondo fatto con il polsino da utilizzare quando vado in palestra concludiamo gli acquisti cinesi con due capi d'abbigliamento che mi hanno resa veramente felicissima perché una cosa non pensavo mi stesse bene e ve la farò vedere dopo e l'altra è una tutina molto carina molto da mare proprio da marinaretta infatti Giampi quando mi ha visto mi ha detto sei pronta per andare in barca fantasia bianca e blu a righe proprio tipica da mare con questa cintura che andrò subito a eliminare a buttare perché odio non so voi ma io odio queste cinture fatte proprio di plastica ma proprio plasticaccia è carino perché ha il pantaloncino e finisce così quindi prende bene la coscia mi piace un sacco veramente bellissimo dietro è un po' così arricciato per tenere tutte le silhouette a posto e questo lo utilizzerò ovviamente al mare, in vacanza e questo purtroppo l'ho pagato solo col 20 ma vabbè e ho speso 10 euro quindi abbastanza secondo me poteva anche valere un po' meno però essendo tutto in cotone va benissimo 10 euro e il capo che vi dicevo che non avrei mai pensato mi stesse bene perché io sono alta 1,60 1,62 adesso non mi ricordo quindi sono bassina e questo qui che ho preso è un abito lungo però è un po' furbetto perché davanti è più corto e dietro scende più lungo quindi ho detto ma sì proviamolo perché mi piaceva mi è sempre piaciuto però su di me pensavo non stesse bene invece lo adoro lo adoro adesso non so se ho già messo su Instagram la foto in cui lo indosso proprio nel camerino però se non l'ho messa la metterò a breve perché sono anche riuscita a fare avanti e retro e così mi dite anche come sto e lo vedete meglio perché come ben sapete mostrare qua degli abiti è un po' difficile comunque è fatto così qua c'è il seno con il buco in mezzo un po' sensuale in vita c'è questa fascia meravigliosa nera con tutte queste borchiettine strass è davvero bellissima mi piace un sacco dà tantissima luce a questo abito e appunto viene giù lungo però vedete come se fosse un abitino corto e poi c'è tutta la sua coda dietro potrebbe essere una alternativa al mio abito da sposa perché è molto carino poi trovo che sia una forma originale un po' da dea greca e mi piace un sacco andate su Instagram e fatemi sapere cosa ne pensate andate a commentare perché io sono curiosa di sapere tutti i vostri consigli tutti i vostri pareri piccola incursione da Kami che è una profumeria e ho preso giusto tre cosine perché erano un mio sfizio non perché mi servissero ovviamente ho deciso di provare a prendere il Maybelline Baby Lips visto che io ho tutta la collezione di questa primavera ho deciso di provare per ora ma penso sì al massimo provo quello all'anguria che mi ispirava come colorazione questo qui il Berry Boom che è quello sul viola è proprio viola io ho ancora sigillato non vi so dire com'è come non è se colora se dura nel tempo eccetera eccetera vi farò sapere sicuramente perché sono anch'io curiosissima e so che anche voi volete sapere tutte le opinioni in merito della Wet n Wild un marchio che non avevo mai visto almeno in quella profumeria non avevo mai visto ho preso questo sgargiantissimo ombrettino glitterato rosa perché mi piaceva tantissimo guardate che luce veramente bellissimo ho deciso di prenderlo perché ho già pensato che trucco realizzare con questo e sempre di questo marchio ho deciso di provare il loro gel per sopracciglia visto che sapete che io sono una patita di questi prodotti perché deve avere le sopracciglia sempre belle a posto belle pettinate ho detto ma si proviamo sembra molto dal packaging quello di essence adesso vediamo se è migliore visto che con quello essence non mi trovo benissimo preferisco quello di bottega verde però vediamo se questo è un valido sostituto se voi conoscete la wet and wild fatemi sapere come vi trovate se sono prodotti validi perché ho visto che più o meno i prezzi sono come essence quindi se vanno bene ho già adocchiato anche altre cosine interessanti però non conoscendo il marchio ho detto proviamo giusto così due prodottini e poi vediamo qua ho lo scontrino così vi dico il baby lips l'ho pagato 2,90 euro i glitterini 2,49 euro e il mascara per sopracciglie 2,99 euro quindi veramente delle cifrine che possiamo ancora permetterci mi sono comprata un libro non a 5 euro no 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 ma a 3,50 euro mentre ero al supermercato sono andata un po' a sbirciare i libri perché io sono una patita di libri anche se ultimamente purtroppo non avendo tempo non riesco più a leggere però spero che durante le vacanze o quando andrò in luna di miele spero di avere del tempo così mi dedico alla lettura perché io amo non nutrirmi di conoscenza veramente mi piace un sacco infatti non penso che a tante di voi possa interessare questo libro perché è la vita segreta del medioevo è proprio la storia di come si viveva nel medioevo lo so ho dei gusti molto molto particolari nei libri magari più in là vi farò un video dedicato proprio alla mia passione librosa ai miei gusti perché sono molto molto particolari nuovo paio di scarpe ho preso per la prima volta pensate un po' anche se io sono cresciuta con questa generazione di converse ho preso per la prima volta delle converse queste qua limited edition costavano 99 le ho pagate 49 io direi che è un ottimo prezzo visto che anche in saldo di solito non vanno sotto i 70 60 qualcosa quindi secondo me ho fatto l'affare forse perché era l'ultimo numero eccole qua semplicissime converse sappiamo già come sono ma volevo mostrarvele mi piacciono un sacco sono grigie ma questo grigio un po' sporco un po' vissuto un po' vintage molto molto bello queste le ho prese da tutti i giorni da utilizzare ovviamente primavera autunno e soprattutto quando andiamo in Messico perché faremo una settimana di escursioni e loro saranno le mie compagne d'avventura siamo giunti al termine ora vi mostro solo più le cose che ho preso da Bottega Verde anche qua in previsione del viaggio di nozze lo so viaggio di nozze viaggio di nozze vi faccio una capa tanta però è così vi dico anche i motivi perché compro certe cose prima di tutto ho finito la tesserina dei solari e quindi ho scelto come premio la gigantissima gigantissimissimissima borsa mare fatta così in oro e arancione non si chiude con la zip come piace a me ma c'è il bottoncino e dentro è enormissima visto che vi ho detto che purtroppo Bottega Verde ultimamente ha alzato un po' i prezzi pensavo di non comprarmi i solari lì proprio per ribellarmi a tutto ciò anche se poi non è che costino tanto tanto di più però costano di più ma andando un po' a curiosare qua e là ho visto che questa linea la linea sole del Mediterraneo era in super offerta tutti i solari di questa linea costavano se non erro sui 6 euro adesso non mi ricordo comunque costavano meno degli altri e loro ho detto si prendiamoli al volo perché mi trovo bene con la Bottega Verde quindi rimaniamo su questa linea ho deciso di prendere questo latte solare anti età setificante la protezione è 30 io non ho bisogno di protezioni alte però visto che il Messico ha una sua atmosfera ha un suo sole caldo diverso dal nostro allora ho detto si prendiamo questa anche se è un po' più potente tanto ci abbronziamo lo stesso anche perché ho preso questa che è l'unguento super abbronzante setificante quindi con questo siamo a posto iniziamo a prendere questo poi usiamo questo poi inserisco l'olio e dovrei arrivare abbastanza abbronzata speriamo perché adoro l'abbronzatura per 99 centesimi ho preso questo buffer che serve sempre poi 99 centesimi mio per forza burro cacao vaniglia e mirra profumazione molto buona delicata nonostante appunto questa intensità come tutte le altre profumazioni veramente idratante lascia le labbra belle morbide yeah ultimo prodotto il contorno occhi della retinolo bio plus di questo vi posso dire che mi trovo benissimo lo sto già utilizzando da tempo io lo compro sempre in offerta perché come vi dico sempre vado da bottega verde solo ed esclusivamente quando utilizzo le cartoline che mi arrivano a casa questo aveva l'80% l'85% di sconto quindi fantastico approfittate di queste offerte ok ce l'ho fatta anche stavolta penso che adesso stop basta all se non che vi mostrerò le cose che mi arrivano dalle aziende con cui collaboro però penso che di mia tasca sia tutto finito mai dire mai spero che vi siate divertite spero anche di avervi dato come al solito qualche spunto qualche idea qualche informazione voi fatemi sapere sempre tutto ciò che pensate e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao